L'uccellino sfortunato. Un giorno di primavera, quando ancora era sera, mi s'avvicinò un uccellino, dolce, ma talmente dolce che mi veniva voglia di seguirlo nel percorso della sua vita, e visto che in quel periodo in me c'era una grande sfiga, bisogno avevo d'una guida. Così lo seguì come un leone, ma in un momento di disattenzione fui come folgorato, ma accorsi d'una cosa, l'avevo calpestato. A di rotto feci un compianto e a quel punto, come un lampo, l'uccellino risuscitò. Io, colpito come mai, gli dissi con le lacrime agli occhi, mai più morirai, ti lodo e ti loderò. E a quel punto un cacciatore col fucile gli sparò. Piansi come la neve, ma quando risuscitò, dal crudele cacciatore, immediatamente via scappò. Era ormai oro il piccolo uccellino, che mentre intraprendeva il suo volo, sembrava giocondo come un bambino. Era bello vederlo volare. Meno bello fu quando il cacciatore si rimise a sparare. Quando esso risuscitò nuovamente, pensai con armonia nella mia mente. Meno male che sto uccello è benedetto su sta terra. E così, recandomi più su, finalmente senza guerra mi dissi, evviva Gesù.